Siamo agli ordini dello starter, sesta da Varese, 1600 metri, due anni al via, condizionata, tutto pronto. Partiti. Non brillantissima Ocean Spirit, dall'interno prova Lorenzo d'Arcadia con di fuori Relco India, più all'esterno c'è Hazel Schels con più a largo ancora Natti Zaya in coda. Ocean Spirit, Relco India forza insieme a Natti Zaya. I due che vanno su Lorenzo d'Arcadia e su Hazel Schels e li superano. Sulla prima piegata allora Relco India che muove decisa sul compagno Lorenzo d'Arcadia lasciando in terza corsia costante Natti Zaya. Più indietro c'è Hazel Schels che segue questi con in coda Ocean Spirit. I due della Relco, i due dell'allegamento dei sette che sono in vantaggio, Relco India e Lorenzo d'Arcadia in linea su Natti Zaya che le segue sempre all'esterno. Poi all'interno c'è Hazel Schels, più indietro Ocean Spirit. Lorenzo d'Arcadia è sempre in vantaggio. Su Relco India la mossa ancora di Natti Zaya che forza sui due appunto dell'allegamento dei sette. deve respingere l'attacco interno anche di Hazel Schels che si propone bene. Più a largo c'è Ocean Spirit con Hazel Schels che sfila a questo punto sugli avversari. All'interno c'è ancora Lorenzo d'Arcadia, battuto invece Relco India. Natti Zaya prova a tenere il contatto ma è più indietro. Più all'esterno c'è anche Ocean Spirit. Lo scatta all'esterno di tutti di Ocean Spirit che va su Hazel Schels. Ocean Spirit e Hazel Schels ha le prese all'esterno. Ocean Spirit che prova ad attaccare. Hazel Schels mette mano alla frusta a Luca Magnezzi e passato in vantaggio. Ocean Spirit che nel finale ha ragione di Hazel Schels e poi più indietro gli altri. Ocean Spirit, l'impressione livornese che era quella giusta per Ocean Spirit che fa 2 su 2 dopo la vittoria al debutto a Livorno. Piega questi incondizionata, batte un'ottima Hazel Schels. Quindi 4-1 è la coppiata giusta per questa corsa. 1-51 la quota di Ocean Spirit che ovviamente fa coppia di scuderia con Natti Zaya. Quindi si va alla cassa anche per chi ha giocato il 3 vincente. Però il 4 è il cavallo che ha vinto. Vince Ocean Spirit e Luca Magnezzi per i Dio Oscuri, Stefano Aglino Botti. 4 che vince, al secondo l'1. Questa è la coppiata. 4-1 per la sesta corsa è tutto. Linea la regia. Grazie. Grazie.